Una nuova voce di corridoio, un rumor, ci afferma quale sarà la scena post-credit, o per meglio dire, una delle scene post-credit più importanti all'interno di Venom 3, perché solitamente ce ne sono anche due all'interno dei film Marvel e Sony. Quindi sta a voi decidere se continuare con il video oppure inoltrarvi all'interno di questo video. Sta a voi decidere. Non è detto che poi accadrà questo all'interno della pellicola. Questo rumor ci afferma che all'interno di Venom 3, nella scena post-credit, noi vedremo quale sarà la nuova grande minaccia di questo Venomverse dell'universo Sony. E infatti vedremo Knull. Chi è Knull per i più, tra virgolette, ignoranti? In poche parole, Knull è il re dei simbionti, di cui fa parte Venom, di cui fa parte Carnage, Riot e chi per esso. Ok, Toxin, perché all'interno del film probabilmente dopo il finale della furia di Carnage ci sarà anche Toxin, e molto probabilmente potrebbe essere il villain, uno dei villain di Venom 3. Ok? Quindi ragazzi, non lo so, è ovvio che è un rumor, è ovvio che è molto presto, in merito al film non sappiamo quasi nulla, quindi potrebbe anche essere una cavolata, però è da diverso tempo che si vocifera un Toxin come... un Toxin, sì, un Knull, scusate, un Knull come villain di questo Venomverse, insomma. E quindi staremo a vedere... non lo so ragazzi, non lo so, sulla carta potrebbe anche essere figa come cosa, però siccome stiamo vedendo la gestione della Sony, di questo universo, per quanto riguarda soprattutto la furia di Carnage e Morbius, eh, cavolo, 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 io ho paura. Perché non ho messo il primo Venom? Perché il primo Venom, riguardandolo, a me è anche piaciuto. È ovvio che si distacca abbastanza dal Venom fumettistico, ma se lo prendiamo preso a sé e facciamo finta di non conoscere Eddie Brock e il Venom dei fumetti, il film non è neanche così male. Lasciate da perdere, insomma, il villain che è insulso, insomma... Però, in sé, il film non è male. La furia di Carnage e Morbius sono delle ciofeche assurde, per quanto mi riguarda. Quindi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Se vi piace il canale, iscrivetevi, perché il vostro supporto è fondamentale, e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima!